Che cosa ha provato quando ha ricevuto la telefonata del Santo Padre? Mi ha detto un grande riflesso emozionale soprattutto. Avevo capito che era un privilegio, diciamo, perché non so chi altri poteva aver provato lo stesso emozione. Credo che sia una storica unica e una cosa storica che non so quanti altri direttori di Caritas italiana avrebbe potuto avere questo privilegio.